Al via, dopo l'ok del Consiglio Comunale di Monte Corvino-Rovella, l'iniziativa Nonno Vigile. Tale servizio prevede una prestazione di sorveglianza in occasioni di manifestazioni sportive e culturali organizzate dal Comune. Allo stesso tempo è previsto un servizio che andrà a coprire gli orari di entrata ed uscita dalle scuole. Potranno fare richiesta tutti i cittadini residenti pensionati nel Comune di Monte Corvino-Rovella, aventi un'età compresa fra i 55 e i 70 anni. Coloro che manifesteranno la loro volontà a svolgere tale servizio dovranno seguire obbligatoriamente un seminario formativo basato sull'apprendimento delle nozioni di base del nuovo codice della strada e sulle norme di comportamento stradale.